Salve a tutti in questo video vediamo come chiudere il ragazzo nel garage. Non è difficile, basta starnazzare e guidarlo. Se poi sbagliamo bisogna solo correggere un po'. Quindi, ad esempio in questo caso mi va troppo verso la fine della strada, quindi basta aspettare senza starnazzare più. Aspettiamo che si piazzi nel punto giusto. E poi lo spingiamo verso l'alto. Anche qua troppo presto, vedete? Quindi aspettiamo. Ci siamo quasi. Eccolo là. Tiriamo la cordicella, usciamo. La tizia andrà ad aprirgli la porta, ma ormai la missione è compiuta. Chiudere il ragazzo nel garage, completato. Ecco fatto. Un saluto.